Sono 1200 gli interventi finanziati dalla regione per le imprese abruzzesi grazie alle risorse dei fondi europei 2007-2013 per una cifra complessiva di 590 milioni di euro. Questa mattina presso la sala Tinozzi della provincia di Pescara il presidente Luciano D'Alfonso ha incontrato i rappresentanti delle imprese che hanno beneficiato delle risorse. Qui siamo davanti a oltre 1200 contraenti che hanno sottoscritto obblighi giuridicamente vincolanti e hanno anche un obbligo morale di fare bene, non solo di fare ciò che è scritto nel contratto finanziato dalla regione appaltato dai diversi enti, aggiudicato da questi operatori economici che ci sono qui. Non solo devono fare quantitativamente ma devono fare qualitativamente bene poiché da questi investimenti deriverà l'Abruzzo migliore, l'Abruzzo che funziona, l'Abruzzo che accoglie e l'Abruzzo che garantisce diritti e opportunità. La cifra che abbiamo messo in cammino e che metteremo in cammino nei prossimi 5 anni è una cifra irripetibile. Abbiamo appaltato circa 800 milioni di euro e adesso appalteremo di qui ai prossimi 5 anni 2 miliardi e 200 milioni di euro. Ci deve essere anche un vincolo morale a fare non solo quantitativamente tanto ma a fare qualitativamente bene. E a margine dell'incontro con gli imprenditori il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha parlato del desiderio di riportare a Pescara un'opera dell'architetto giapponese Toyo Ito. Io credo che il rapporto con questo gigante dell'arte e del design mondiale non possa essere concluso con quella vicenda dolorosa che fu la vicenda di Toyo Ito a Piazza Salotto. Io vorrei reincassare il rapporto con lui facendo in modo che concepisca una nuova opera d'arte da collocare in luogo idoneo sperando che l'atmosfera, la circostanza, il clima, la complessità delle condizioni consentano una migliore riuscita.